rosalinda cannavò questa mattina si è confidata con i suoi fan su un suo problema di salute che le sta togliendo il sonno da qualche giorno periodo intenso per rosalinda anche nota come adua del vesco che dopo l'esperienza al grande fratello vip ha decisamente aumentato la sua popolarità e gli ha i peso il suo profilo instagram qui conta 608 mila seguaci con cui si sfoga e si confida ogni giorno nelle ultime ore la bella rosalinda ha rinnovato la sua amicizia con diane mello le due ieri per la gioia dei fan che hanno condiviso con loro tutto il percorso fatto all'interno della casa del gf si sono riunite per scattare insieme un servizio fotografico procede tutto a gonfie vele dunque le amicizie l'amore con andrea zenga tutto a parte un piccolo problema di salute che ha confidato questa mattina alle sue fan in una serie di instagram stories pubblicate questa mattina per vederle clicca qui la cannavò ha confessato di soffrire di mal di schiena e forti dolori alla cervicale tanto da non riuscire a dormire da giorni sto molto male ha detto riprendendosi mentre è completamente al naturale acqua e sapone qualche giorno fa la custode del palazzo in cui vive andrea zenga il suo fidanzato le aveva fatto alcuni massaggi che però non le hanno apportato alcun giovamento questo pomeriggio l'attrice è stata accompagnata proprio da zenga da un fisioterapista che la massaggiata e le ha consigliato alcuni esercizi da svolgere individuando esattamente qual è il problema di cui soffre e Grazie a tutti.